Ciao ragazzi, oggi vi presento un brano di uno degli autori da me preferito che è Bruno Mars. Oggi vi voglio presentare uno dei brani che lo hanno portato al successo. Questo autore è sudamericano, è veramente molto in gamba e ha dei brani molto molto ritmati. Quello che vi presenterò oggi è Trezor. È un brano che io faccio spesso con i miei alunni a scuola e lo vorrò presentare anche in particolare per le mie prime che stanno imparando perché poi non è non è così difficile, è un brano abbastanza semplice. Quindi piano piano lo possiamo imparare assieme, dobbiamo stare attenti un po' alla divisione. Se per caso vedete che fate fatica a farlo subito veloce potete rallentare il ritmo con la rotellina che si trova sulla destra dello schermo. Quindi buon ascolto e dopo la mia esecuzione come sempre troverete la partitura e la base musicale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.